la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buon lunedì a tutti ben trovati con l'appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani prima pagina del mattino nazionale tema di apertura principale argomento anche per le pagine di primo piano la questione ai migranti e vediamo anche per le misure previste dal governo a migranti arriva la stretta dubbi del colle sul decreto Salvini mantiene la linea dura sul diritto d'asilo tensione con i 5 stelle Aquarius 2 Panama revoca la licenza pressioni dall'Italia il Viminale nega e vediamo gli articoli correlati la cronaca rapina sciocchi in Villa Chieti per trovare la cassaforte mi hanno tagliato l'orecchio questo è il racconto di una delle due vittime poi la politica il centro-destra il ritorno di Berlusconi correrò alle europee forze Italia la costola sovranista andiamo avanti ci spostiamo di spalla la manovra tagli alla sanità lo scontro tra governo e regioni e poi di fondo invece il commento all'articolo di apertura il declino del sapere vero male del paese di taglio alto ampio spazio dedicato alla serie A e al calcio con la vittoria ieri nella gara delle 12.30 contro il Torino 3 a 1 il risultato finale la svolta made in Italy doppietta di insigni e verdi annientato il Torino Ancellotti trova lo schema giusto con la Juve sapremo la verità i bianconeri intanto passano a Frosinone poi gli articoli correlati nel segno di Carletto perché si dice ieri la gara la vittoria del Napoli ha portato proprio il segno dell'allenatore che ha cambiato il modulo un modulo che poi alla fine si è rivelato vincente e poi il racconto il dolce smarrirsi nel Napoli totale alla fine per quanto riguarda invece il controcampo abbiamo di nuovo un sogno nel cuore di taglio alto nei box la recensione le avventure dell'archeologo che ha riscoperto Tutankamon e poi focus del mattino il carrozzore dei 3.000 diplomatici nell'Unione Europea dell'Austerity ancora il film Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli due burini meravigliosi spostiamoci di taglio basso vediamo nelle rubriche del mattino come chiude questa prima pagina il personaggio Cardinale Sepre nuovo malore paura a Lourdes e poi per fumo e rosso di Roberto Gervaso le chiacchiere sono il sale della stupidità questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo sul mattino di Salerno vediamo invece i principali titoli che interessano la nostra provincia il titolo di apertura la sicurezza scatta la campagna anti ludopatia malati di gioco sindaci in campo ora alla stretta in cantiere ordinanze e regolamenti battaglia civile a difesa dei ragazzi gli articoli correlati la storia quei sussidi per i poveri bruciati nelle slot machine e poi la fotonotizia dal patrono alle reliquie di San Pio la città della fede torna in cattedrale gemellaggio in vista con San Giovanni Rotondo un dono speciale rinsalda la devozione della città di Salerno verso San Pio da Pietrelcina che ieri sera come ogni anno è celebrato da migliaia di persone che gremiscono la cattedrale centropagina va in gommone e sparisce nel nulla e giallo mistero sulla sorte di un 54enne salernitano scomparso dopo una gita in mare a vietri non si trova neppure la sua auto e poi la crona che estorsione all'imprenditore appuntamento al bar per il pizzo arrestati il boss ed il suo Gregario di spalla ricordo Valiante i cento passi tra chiesa e politica e poi la politica il sindaco dice sì al raduno lega campagna riflettori sul sud il raduno della lega si sposta al mese di ottobre ma la contromanifestazione ci sarà comunque di taglio basso punti di vista Gioe Petrosino il portone dell'accoglienza chiudiamo questa prima pagina del mattino di Salerno andiamo sulle altre prime pagine la città vediamo si parla anche qui in apertura della questione migranti vediamo accoglienza migranti proroghe senza appalti servizio scaduto nel 2016 il comune di Salerno annulla il bando da 900 mila euro non si rispettava la legge non decolla il piano da 18 milioni della prefettura no al decreto sicurezza di Salvini e poi nella fotonotizia i pericoli sulle strade cavalli al galoppo sulla tangenziale ancora viadotto gatto prove ultimate ora le analisi sulle travi questo per quanto riguarda la verifica strutturale sul viadotto gatto che era stata prevista per sabato andiamo di fondo vediamo che troviamo le notizie di sport partendo dalla serie B con l'Antuono rivoluzione alla Salernitana in serie C la Cavesi riaccende la passione poi in serie D Nocellina K.O. sorride solo la Gelbison di spalla invece la cronaca Bellizzi clan De Feo lavori grazie a noi racket due arresti a Maiori coltellata al vicino giovane in manette infine Nocele inferiore pulizia dei torrenti accuse al sindaco nei box in alto Valva il caso stop al parco eolico nell'area protetta invece a Baronissi lottizzazione K.O. restituiti i terreni vediamo come chiude la prima pagina della città di taglio basso Minerva tesoro nel giardino scoperto un affresco e un nettuno o un San Michele Arcangelo il giardino della Minerva si arricchisce di un'altra preziosa attrattiva da oggi infatti sarà possibile ammirare un suggestivo affresco che sovrintendenze ai beni archeologici Comune di Salerno ed Associazione Orizzonti Futuri Onlus hanno voluto restituire i suoi antichi fasti ieri sera si è tenuta la presentazione questa è la prima pagina della città andiamo avanti andiamo sulla prima pagina di Le Cronache vediamo titolo di apertura o guappo cartone duro attacco di Tonino Scala al governatore dopo la sceriffata di Salerno contro un nigeriano bloccato davanti al market è facile prendersela con una persona perché è di colore solo per prendere qualche applauso e qualche like De Luca e la caccia agli immigrati andiamo avanti sanità risparmio pannolini scadenti per i disabili appello a De Luca la storia denunciata da una famiglia e poi Bellizzi il boss De Feo ha un suo affiliato arrestati per restorsione Vito e Massimo Romano Pizzo ad imprenditore a Bellizzi minacciavano di bloccare i lavori continuiamo andiamo a campagna antifascista con la Lega scoppiano le polemiche canta la messa Querelo e poi anche qui si parla dei test sul viadotto Gatto per testare appunto la sicurezza della struttura vediamo viadotto Gatto i tempi si allungano i tecnici verifica sulla parte che insiste su Porta Ovest oltre ai risultati c'è ancora da lavorare le differenze con il Morandi a Maiori a Maiori l'ite sfocia nel sangue 26enne a Cortella il vicino di casa e poi per il calcio invece sedi e Dino c'è Dina brutta sconfitta in zona Cesarini ad Acireale e il Taranto invece travolge la Sarnese Gelbison pareggio tra gli applausi questa è la prima pagina di Le Cronache torniamo ora sulle pagine del mattino andiamo nelle pagine di primo piano per vedere quali sono i principali temi trattati dal mattino nazionale che riguardano appunto di carattere appunto nazionale partiamo dalla questione migranti che poi è anche la questione il tema di apertura per il mattino nazionale vediamo il decreto migranti trincea Salvini i dubbi di colla in movimento 5 stelle per la stretta sui diritti oggi in consiglio dei ministri il provvedimento del Viminale ascoltati i rilievi del Quirinale diritto d'asilo e cittadinanza modifiche minime rischio Vietnam in Parlamento il testo che arriva oggi è tenuto coperto fino all'ultimo anche con gli alleati si parla vediamo di alcuni punti Salvini non intende mollare e punta ad approvare le misure sulla sicurezza e sull'immigrazione anzi nella Lega c'è chi non esclude di poter recuperare in Parlamento anche misure sbianchettate nei giorni scorsi vediamo quali sono queste misure che vengono contestate pare anche dal Movimento 5 Stelle in particolare l'abrogazione dei permessi per motivi umanitari e le restrizioni sui meccanismi per ottenere la cittadinanza oltre alla possibilità che non venga concessa se il casellario giudiziario di un parente del migrante non è immacolato ieri sera Salvini ha negato problemi con il Quirinale aggiungendo che però se c'è una critica positiva io cambio aggiungo e arricchisco queste le parole di Matteo Salvini andiamo avanti intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Siracusa ricorda Bastioni il giurista che si dedicò ai diritti umani servono regole comuni queste le parole e poi di taglio basso invece troviamo quali sono i punti più salienti del decreto immigrazione e sicurezza vediamo dovrebbe essere abolito il visto per motivi umanitari niente asilo se c'è un reato cittadinanza revocata ai condannati chi torna in patria perde i diritti acquisiti da aspo urbano si ampliano le zone poi tesera anche alla polizia municipale stretta sul noleggio di furgoni occupazioni sanzioni più severe le norme che dovrebbero essere contenute all'interno del decreto immigrazione e sicurezza su cui stamattina discuterà il consiglio dei ministri andiamo avanti continuiamo a parlare della questione migranti questa volta però parliamo in particolare della nave Aquarius una nuova nave Aquarius nei giorni scorsi ne avevamo parlato anche dai quotidiani era nelle acque del Mediterraneo con il nome cambiando il nome Aquarius 2 e con bandiera Panamense che pare però abbia ritirato appunto il Panama il Panama abbia ritirato il il vessillo e vediamo il titolo braccio di ferro Aquarius 2 bloccata lite ONG Viminale Panama annuncia la cancellazione dai registri navali dell'Aquarius 2 i volontari affermano che è il frutto delle pressioni politiche di Roma il governo italiano respinge le accuse nessun pressing e Salvini rilancia denuncerò le sigle che aiutano gli scafisti intanto di taglio basso Conte in missione all'assemblea ONU l'Italia cerca la sponda USA sulla Libia e andiamo avanti ultima andiamo sulla pagina dedicata alla manovra per la sanità lo abbiamo visto anche dalla prima pagina sanità tensione tagli regione in allarme a rischio le terapie governatori vogliono più fondi per farmaci innovativi e assunzioni in ballo 2 miliardi partita a scacchi nella maggioranza tra Lega e Movimento 5 Stelle e con questa pagina dedicata alla sanità ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e torneremo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa continuiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani partiamo dal mattino e lo abbiamo visto dalla prima pagina parte la lotta contro la ludopatia visti anche i recenti casi che si sono registrati in tutta la provincia di Salerno ed ecco quindi che i sindaci quindi si mettono insieme proprio per sconfiggere per arrestare questo fenomeno vediamo il titolo stop malati di gioco crociata dei sindaci primi cittadini in campo battaglia a tutela dei ragazzi pronti ordinanze e regolamenti e nasce uno sportello di ascolto la linea dura adottata a Nocera da Torquato legittimata dal verdetto del Tar nei pronunciamenti giurisdizionali non solo il tema della sicurezza ma anche la lotta alla ludopatia vediamo una parte dell'articolo è un problema concreto in alcuni comuni un serio rischio in altri fatto sta che a Salerno in provincia i sindaci in autonomia fanno fronte comune per arginare un fenomeno in grande ascesa il gioco d'azzardo che sia con un'ordinanza con un regolamento o semplicemente tenendo destra l'attenzione possibile però solo nei piccoli paesi i primi cittadini in molte occasioni sono corsi ai ripari nonostante limitati strumenti che la legge consente loro di utilizzare con una speranza che quanto messo in campo sia sufficiente a placare le voglie di giocare la bolletta o alla slot machine la questura di Salerno nel luglio scorso ha sollecitato i sindaci affinché adottino regolamentazioni in materia perché la questione attiene alla sicurezza pubblica e poi vediamo quali sono alcuni dei comuni che si sono attivati Salerno Trentinara Montesano su una Marcellana non c'era inferiore Castellabate Camerota e Baronissi sono questi insieme a qualche altro i pochi comuni salernitani che hanno adottato un provvedimento per regolamentare gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro e andiamo avanti di taglio basso i sussidi per i poveri nelle slot machine controlli rigidi così si fa prevenzione parla il sindaco di Baronissi l'intervento del comune di Baronissi grazie alla rete dei servizi sociali sul territorio sono finiti nelle slot machine di alcune sale di Baronissi e di Salerno i contributi economici elargiti dal comune in favore di una famiglia che vive in disperate condizioni di povertà questo è quanto accaduto a Baronissi e che ha spinto quindi il sindaco ad emettere i provvedimenti andiamo avanti lasciamo il mattino andiamo sulle cronache vediamo quali sono i principali temi innanzitutto il tema di primo piano il caso dei pannolini per disabili e del cambio della marca da parte della regione Campania vediamo pannolini scadenti appello a De Luca Marta 10 anni affetta da una rara patologia costretta a fare i conti anche con la burocrazia la lettera di Paola Sivoccia e Fabio Cupo nel nome del risparmio la regione Campania cambia marca il tutto a discapito dell'utenza vediamo una parte di questa lettera caro presidente scrivono Sivoccia e Cupo se lo lasci dire per risparmiare pochi centesimi sta facendo una pessima figura non siamo animali ricordano ma persone e datali vorremmo essere trattati la nostra speranza è che dopo questo appello le cose cambino velocemente ci piacerebbe essere fieri di essere salernitani queste alcune delle parole scritte nella missiva indirizzata al governatore della Campania andiamo avanti gli altri titoli su questa pagina ascensore Guasto Arruggi Dante Santoro basta di servizi per pazienti e operatori il consigliere comunale d'opposizione ha attivato il suo fiato sul collo il consigliere di giovani salernitani Demà denuncia quanto accade presso il nostro comio salernitano altro che rivoluzione per molti la sanità in Campania è un inferno e poi educazione alla cittadinanza la nuova proposta dei GD chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre Salerno per la pagina di cronaca andiamo in via Vinci Prova lo abbiamo visto anche dalla prima pagina vediamo via Vinci Prova il campetto dimenticato lavori di manutenzione effettuati circa un anno fa ed oggi è nuovamente distrutto in curia e degrado hanno trasformato uno dei luoghi simbolo per i bambini della città di Salerno bambini costretti ad andare altrove e sempre a Salerno il caso viale degli Olmi cavalli sfasciano auto in sosta e due animali hanno seminato il panico poi il caso scomparso a bordo di un gommone ore di ansia per un 54enne dell'uomo non si hanno più notizie da due giorni al vaglio e filmati delle telecamere scomparso nel nulla a bordo di un gommone non si hanno sue notizie da più di due giorni a darne notizia a divulgare la notizia il Vescovado un 54enne salernitano nella giornata di venerdì ha lasciato il molo della marina di Vietri prendendo il largo a bordo di un gommone da allora si sono perse le sue tracce e poi continuiamo l'iniziativa Mare Nostrum un mare di opportunità la presentazione a Palazzo Santa Lucia l'obiettivo è valorizzare e promuovere i prodotti della pesca costiera chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sulle cronache andiamo sulle pagine dedicate alle notizie della provincia andiamo quindi sulla provincia sud in apertura si va a sala Consilina oggi l'ultimo saluto a Giancarlo Lamura vediamo il titolo l'estremo saluto a Giancarlo stroncato da un improvviso malore nulla da fare per i sanitari che erano intervenuti per tentare di salvargli la vita l'imprenditore era molto conosciuto ed apprezzato da tutta la comunità rimasta abbassita dall'incredibile notizia questa mattina l'ultimo saluto del 57enne ucciso da un inesorabile malore previsto una gran folla di concittadini per rendergli omaggio e poi andiamo a Pestum rientrata la protesta degli ambulanti del mercato al chilometro zero andiamo di taglio alto ad Agropoli un secolo di vita per il maresciallo dell'arma Michele Nigro una solenne cerimonia nell'aula consigliare per onorare il maresciallo il poeta e l'uomo di taglio basso torniamo a Sala Consilina il caso che si è registrato negli ultimi giorni chiede offerte e donazioni per la festa ma non ha alcuna autorizzazione arriva l'allarme lanciato dal presidente della procura di San Michele l'uomo si aggira chiedendo offerte e donazioni per lo svolgimento della festa c'è sempre chi studia modi e tempi per truffare il prossimo chi approfitta della buona fede delle persone anziane degli affetti che esso nutre nei confronti di parenti e quanto denuncia il presidente della procura di San Michele che dice che in vista dei festeggiamenti religiosi che si terranno nei giorni 28 29 e 30 settembre prossimi a San Michele c'è qualcuno che chiede offerte per lo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose il presidente Michele Cardinale in pratica denuncia insomma quanto sta accadendo e mette in guardia per la presenza di questo individuo che si aggira per i negozi e per le case sostenendo che non non ha autorizzazioni a chiedere offerte per per i festeggiamenti lasciamo questa pagina andiamo avanti sempre provincia sud vediamo le altre notizie a Bellizzi estorsione preso De Feo costi sul fatto mentre intascano i proventi di una commissione per un imprenditore di taglio alto Pattano la grecità sofferente dalle badi di Santa Maria di Pattano grande impegno dell'architetto e restauratore Francesco Mautone che da anni offre le proprie competenze per salvare il sito a Sapri invece successo per Daria Arkel e la sua lezione magistralis nell'auditorium di Sapri infine andiamo a Castiglione sulle tracce di Matteo Bottigliero il concorso fotografico per costruire una mostra permanente chiudiamo le pagine di Le Cronache e chiudiamo questa nostra rassegna stampa con lo sport il Napoli torniamo sul mattino Magie Napoli la doppietta di Insigne la rete di Verdi per battere il Torino e sabato poi la Juve andiamo avanti ci sarà però il turno infrasettimanale contro il Parma Carlo Sanrendermi felice la vita è bella queste le parole del Presidente andiamo di taglio alto nei box il tecnico Ancellotti cambia tanto perché è alta la qualità queste le sue parole poi il protagonista della gara di ieri Lorenzo Insigne ora non dobbiamo più fermarci e poi intanto il prossimo avversario è inglese l'ex a metà e la sfida con il Parma infine ieri chiudiamo questa pagina dedicata allo sport con i risultati delle altre gare vince la Juventus contro il Frosinone per 2 a 0 Ronaldo salva il bianconere invece perde la Roma ed è bufera e con lo sport chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito